musica 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 10 volte in meno 10 volte in meno ancora tu sei nella mappa crossing aspetta noi vediamo se ci sei no non stai in squadra con me si si ok però siamo pisello siamo nella stessa squadra che lo dici guarda di la da 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 questi qua sono dello stesso clan mi sa si sono dello stesso clan no a mio vero forse non lo so però pisello oh sono un caso più alto di te da buono dove sei ecco ti sei qua con me ciao ciao pisello ciao ciao vieni vieni andiamo bevo correntecoso si ce l'ho ce l'ho già in mano oh ma roba e mi hai mai rubato la chili la traccia ma mi capisco niente ma che piselli che siamo ci siamo fatti ammazzare come dei piselli ho sbloccato un'arma pazzesca per un'ora pazzesca no 3 e 2 sono il primo e niente ma tu dove sei? ma tu sei avanzato è morto stai ma ci ero uno che mi ha chiesto niente ok no ti ha fatto una kill incredibile però no la ma ma che zicco erano lì ma questo è diventato il bastonale ma i granati mi hanno cagato ma infatti queste granate aspetta vieni con me dove sei lo tiro di te vieni con me passiamo per qua e andiamo vicino io buttavo una granata una clamor nel punto di spawn ma già bugata un attimo a casino mi sa pure che c'è a finire qua c'è sempre uno che sta qui mi sono appaurato mi sono morto per la giustizia io la caserma e li vengono ma è un progetto niente e' un progetto niente eh esattamente no che buio e' un progetto niente e' un progetto niente ah vabbè ma che farti di merda questo c'è Ah mi sta andando bene sta versinca Adesso ho paura 1-3, 3-6 cioè Non c'è un po' più lungo Come fa per morire? non è vero la gelosina di salto non fa proprio un cazzo di danno ora ragioniamo non è vero ma questa rete sai che ti vuoi curare con con la classe della claymore dove hai ti vuoi curare dai non è vero non è vero non è vero non è vero pago vieni qua non mi avevo visto pago vieni qua pago vieni qua dove sei? guarda a te ciao sto facendo 15-9 ma perchè si alza? ma lì non si li faccia da sopra no ma scusa ma io che ti serve a fare se tu 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 eh bene pure io ci spendo sempre apposta ha già fatto qui 15-9 bravo bravo quando lo possiamo fare da dietro se scendiamo qua vabbè scendiamo vabbè scendiamo oh c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua oh sei tutti e tre in headshot c'è andiamo niente c'è molto 21 di ah boi ah come di 9-1 ora 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 questa arma fa proprio stifo la mia no io ho trovato l'arma buona che non è al posto peccato che però però l'unico problema è che tipo la tengo la tengo sbloccata per meno di un'ora eh proprio io l'arma di 60 kg oh non si può sbloccare pure le classi cioè le classi sono sbloccate solo per un periodo limitato proprio no io ce l'ho da sempre le classi veramente ma guarda qua ma guarda qua io menti 4 uno c'ha l'arma mia ah tu c'hai l'arma mia va go quella arma che ho fatto io 60 kg ieri guarda qua guarda qua guarda qua ah ma stiamo perdendo ah boh non fa niente io la mia partita l'ho fatta 27-15 ma eh niente ho fatto 5 kg di seguito ho fatto io la partita di prima ho fatto 8 kg consecutivi me lo compagno da queste gare da me ne servono qui mamma mia ma 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 Oh, non è vero che ti fassi una cosa Buongiorno